buongiorno perline in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial dei miei orecchini oblio eccolo qua questo rappresenta una variante in realtà del mio primo orecchino oblio che è questo qui fatto con le goccine con perle da 6 mm un rivoli da 16 azzurro quindi l'ho fatto sulle tonalità del verde dell'azzurro mentre questo qua l'ho fatto sul violetto vediamo se metti a fuoco aiuto eccolo qua allora i materiali necessari per poter effettuare questo modulino sono perle da 6 mm ce ne serviranno 7 rocai miyuki 11 0 8 0 15 0 di due colorazioni anzi anche per quanto riguarda le rocai 11 0 avremmo bisogno di due colorazioni perché io ne utilizzo uno solo per il retro e poi rivoli da 16 mm mezzi cristalli da 3 mm potete utilizzare benissimo le 8 0 anellino monachella e naturalmente filo e ago io utilizzo il filo di nylon allora come primo passaggio dobbiamo inserire sul filo 7 perle da 6 mm alternate a 7 rocai 8 0 chiudere a cerchio fare i soliti nodini ed uscire da una 8 0 ok usciti da una 8 0 dobbiamo inserire sul lago 3 rocai 8 0 1 2 3 e rientrare nella stessa 8 0 dalla parte opposta dopodiché attraversare la perla da 6 mm e l'altra da 8 avremmo questo dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro dopodiché usciamo da una 8 0 di punta perfetto usciti dalla rocai di punta dalla rocai 8 0 di punta dobbiamo inserire sul lago 7 rocai 11 0 della prima colorazione naturalmente quella che preferite io sto utilizzando quella che non mi piace la uso per il retro 3 4 magari non rotta 1 2 3 4 5 6 e 7 quindi abbiamo 7 rocai 11 0 e ci inseriamo nella rocai 8 0 di punta successiva ecco qua dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro dopodiché usciamo dalla quarta rocai delle 7 appena inserite quindi da quella centrale ok allora fuoriusciamo dalla quarta delle sette rocai appena inserite inseriamo una 8 0 e ci inseriamo nella quarta della gruppetto da 7 successivo allora dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro dopodiché dobbiamo inserire rivolto verso il basso il rivoli da 16 stringere il lavoro e vedrete che il cavo shon è perfettamente o meglio il rivoli è perfettamente incastonato farvi notare che questo tipo di incastonatura se volete potete farla anche in questo senso qua risulta molto carino poi bisogna stringere bene però risulta si mette a fuoco molto carino anche così fatti all'inizio ero indecisa se farla da un verso dall'altro poi alla fine ho deciso di metterlo a testa in giù lasciando in avanti le perle quindi chiudiamo bene stringiamo io fare faccio anche un paio di nodine per stabilizzare il tutto ok una volta incastonato il nostro rivoli ecco il risultato usciamo da una 8 0 inseriamo sul lago se rocai 11 0 io utilizzo queste argento 4 5 se la posso fare e 6 6 rocai 11 0 e ci inseriamo nella 8 0 successiva solo nella 8 0 facciamo questo passaggio per tutto il giro allora una volta fatto il giro con le 11 0 facciamo lo stesso passaggio con le 15 quindi usciamo sempre dalla 8 0 aggiungiamo sul lago 8 15 1 2 3 4 5 6 7 e 8 usciamo dalla 8 e rientriamo nella 8 successiva questo passaggio è un po complicato ma abbiate fede ecco si andranno a sistemare in questa maniera dovete fare questo passaggio per tutto il giro fatto anche questo passaggio con le 15 0 dobbiamo trovarci ed uscire dalla quinta delle 11 questa ecco qua dobbiamo aggiungere sul lago 5 rocai 11 0 e saltando la prima del gruppetto di 6 delle 11 dobbiamo entrare entrare nella seconda quarta quinta scusa seconda terza quarta e quinta quindi così noi abbiamo il gruppetto di 6 delle 11 0 dobbiamo entrare nelle quattro centrali quindi aggiungere cinque rocai in aggiunte 4 mi sa cinque rocai 11 0 ok cinque rocai 11 0 ed entrare nelle quattro centrali del gruppetto da 6 ecco qua e si andranno a sistemare in questa maniera di nuovo cinque rocai 11 0 spero si riesca a vedere il passaggio quindi uscendo dalla quinta del gruppetto di 6 entriamo nelle quattro centrali delle 6 successive in pratica si andranno a sistemare in questa maniera dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro allora una volta fatto quel passaggio questo passaggio con le rocai 11 0 ci ritroveremo così usciamo dalla centrale del gruppetto di 5 appena inserito adesso dobbiamo aggiungere sul lago 4 rocai 15 0 del secondo colore 1 2 3 e 4 metti a fuoco non metti a fuoco ecco qua e dobbiamo entrare allora vediamo se riesco a farmi capire nelle rocai 15 0 centrali allora noi abbiamo davanti qui un gruppetto da otto di rocai 15 0 dobbiamo entrare nelle due centrali quindi nella quarta e nella quinta vediamo se riesco a farvi vedere bene il passaggio ecco qua tiriamo il filo e si andranno a posizionare in questa maniera a questo punto aggiungiamo altre 4 rocai 15 0 e ci inseriamo nella punta dell'archetto successivo così io lo faccio vedere di nuovo aggiungiamo 4 rocai 15 0 e ci inseriamo nelle due centrali quindi nella quarta e nella quinta ecco qua dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro una volta fatto il giro con le 15 0 ci ritroveremo così con una sorta di fiorellino a questo punto dobbiamo fare due passaggi il primo passaggio è quello di uscire dalla terza delle quattro rocai appena inserite quindi usciamo dalla terza inseriamo sul lago un mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo nelle tre rocai 15 0 del gruppetto successivo saltando la prima quindi così e il mezzo cristallo andrà a posizionarsi perfettamente sul centro del lavoro qua sulla punta invece dobbiamo aggiungere 3 rocai 15 0 dell'altro colore ed entrare nelle 3 solo nelle 3 rocai 15 0 successive e si andrà a formare l'archetto questo picco adesso di nuovo come prima aggiungiamo una il mezzo cristallo da 3 mm e ci inseriamo saltando la prima rocai 15 0 del gruppetto da 4 nelle 3 rocai 15 0 e posizioniamo il nostro mezzo cristallo da 3 di nuovo 3 rocai 15 0 1 2 3 1 2 3 e andiamo a fare il picco e entriamo soltanto nelle 3 ok allora dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro ora a questo punto il nostro orecchino è quasi finito manca soltanto l'aggancio per la monachella che io ho realizzato in questa maniera quindi aggiungiamo 4 rocai 15 0 scusate 8 8 rocai 15 0 e rientriamo magari se metti a fuoco mi fa una cortesia ok rientriamo nel mezzo cristallo ok rientriamo nelle prime 4 rocai 15 0 3 4 ecco qua inseriamo la 8 e ci inseriamo nelle altre 4 11 0 ecco qua in questa maniera io ho fatto il mio aggancio per l'orecchino dopo di che io andrò a mettere l'anellino per agganciare la monachella vado da renderlo un po più pendente adesso l'ultima cosa da fare anche se il lavoro già è comunque stabile ripassare all'interno della lavorazione fare i nodini e niente tutto qua perché il lavoro è già abbastanza stabile allora niente il nostro orecchino è finito mi piace fare sempre nuove incastonature e è molto stimolante nulla ragazze ci vediamo al prossimo al prossimo video probabilmente farò un video creazioni attenzioni e attenzioni